La Cina sta sperimentando un nuovo coronavirus simile a quello del Covid, che ha un tasso di mortalità del 100% nei topi. Secondo quanto riferito, la variante killer, nota come GXP2V, è stata inizialmente scoperta nel 2017 nei pangolini malesi e conservata in un laboratorio di Pechino. Sperimentata su topi umanizzati, cioè geneticamente modificati, per esprimere il recettore ACE2 umano con l'obiettivo di valutare la sua capacità di causare malattie negli esseri umani, la forma mutata di SARS-CoV-2 ha mostrato un impatto letale nei roditori. Tutti i topi infettati dall'agente patogeno sono morti entro otto giorni, un evento che i ricercatori cinesi hanno descritto come sorprendentemente rapido. Gli studiosi hanno inoltre riscontrato alti livelli di carica virale nel cervello dei roditori, suggerendo che la causa della loro morte possa essere collegata a un'infezione cerebrale. Nei giorni precedenti alla loro morte, i topi infettati hanno iniziato a mostrare una diminuzione del peso corporeo a partire dal quinto giorno dopo l'infezione, raggiungendo una riduzione del 10% rispetto al peso iniziale entro il sesto giorno. Entro il settimo giorno dall'infezione, i topi mostravano sintomi come piloerezione, postura curva e movimenti lenti, e i loro occhi diventavano bianchi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sono state rilevate cariche virali elevate in vari organi, tra cui cervello, polmoni, naso, occhi e trachea, suggerendo un modello di infezione unico rispetto al Covid. Lo studio ha suscitato preoccupazione nella comunità scientifica. Per il potenziale rischio di diffusione di GXP2V negli esseri umani è sollevato interrogativi sulle misure di biosicurezza impiegate durante la ricerca. Questa follia deve essere fermata prima che sia troppo tardi, ha scritto su X il dottor Gennady Glinski, professore in pensione della School of Medicine di Stanford. Anche il professor François Ballot, esperto di malattie infettive dell'University College di Londra, sempre su X, ha descritto la ricerca cinese come uno studio terribile, totalmente inutile scientificamente. Non vedo nulla di vago interesse che si possa prendere infettando forzatamente una strana razza di topi umanizzati con un virus casuale. Al contrario, vedo come cose del genere possano andare storte. Sebbene lo studio non sia correlato a quello del famigerato Istituto Cinese di Virologia di Wuhan, diventato il centro delle controverse sull'origine del Covid durante la pandemia, ha riportato l'attenzione sul rischio di condurre esperimenti pericolosi con i virus.